Notizie di Prato Tg a tutti buonasera, sono impressionanti i dati sul riciclaggio nel rapporto della normale di Pisa sulla criminalità organizzata in Toscana. Prato è prima in Italia e suona l'allarme delle infiltrazioni mafiose, sentite. 78 clan mafiosi attivi in Toscana con una prevalenza di Indrangheta e Camorra, nessun territorio toscano è immune da infiltrazioni mafiose e Prato insieme a Grosseto Livorno e Massa Carrara lo è ancora meno. Il secondo rapporto sui fenomeni di criminalità organizzata e corruzione in Toscana condotto dalla scuola normale superiore di Pisa su commissione della regione fotografa una provincia nella quale è attivo e in espansione lo sviluppo della criminalità organizzata e la ragione è soprattutto una, la convivenza tra dinamiche nazionali di immigrazione criminale delle mafie storiche con dinamiche transnazionali. Prato è prima in Italia per riciclaggio, i livelli sono in continuo aumento dal 2012 con un tasso che nel 2017 è stato valutato 20 volte superiore a quello nazionale, basti pensare che da sola l'area pratese traina l'intero andamento regionale. Sono la ricchezza, il tessuto produttivo e la presenza dei clan, diversi quelli autottoni, ad agevolare il riciclaggio, affari che spesso sono stati oggetto di indagini e inchieste e alcune ancora in corso con la contestazione dell'aggravante mafiosa che spesso è caduta ancora prima di arrivare al dibattimento. Prato è il terzo comune in Toscana per numero di beni confiscati. Nel 2017 sono diventate proprietà dello Stato 7 aziende e 21 immobili a dimostrazione dell'attivismo delle organizzazioni mafiose sul territorio. Lo studio della normale di Pisa ha dedicato un approfondimento a Prato che diventa un caso in Toscana e in Italia per la vulnerabilità del suo contesto. Il distretto industriale conta diverse sacche illegali di criminalità più o meno organizzata come ha sottolineato l'interesse di due commissioni parlamentari che si sono occupate di contraffazione pirateria e commercio abusivo e di infortuni sul lavoro e malattie professionali. Nel 2013 l'IRPET ha stimato tra i 6 e i 9 mila lavoratori in nero nelle aziende cinesi, un sistema di pratiche illegali che si trascina dietro sfruttamento della manodopera clandestina, riciclaggio e contraffazione. Quanto alla criminalità organizzata straniera, lo studio della normale parla di Prato come di territorio che ospita plurime formazioni, rumene, magrebini, albanesi e soprattutto cinesi, che convivono più o meno pacificamente. Addirittura con forme di collaborazione per l'approvvigionamento di armi che per l'organizzazione dell'immigrazione clandestina. Un altro focus è stato dedicato all'abbandono degli scarti tessili, mille tonnellate solo a Prato nel 2017. Rifiuti, altro mercato ricco per le organizzazioni criminali. Ha prelevato nel giro di pochi giorni circa 2000 euro dalla cassa del centro estetico dove è impiegata e non sapendo come giustificare l'ammanco si è inventata, pensate, una rapina. Sono stati gli investigatori della squadra mobile a smascherare la commessa 42enne del centro biolaser di Via Ferrucci che giovedì mattina aveva chiamato la polizia dicendo di essere stata rapinata da un bandito solitario che l'aveva minacciata con un coltello. La donna aveva descritto nei minimi particolari quanto accaduto ma i poliziotti si sono insospettiti e hanno cominciato a metterla alle strette fino a farla confessare. La donna ha ammesso di essere stata lei a prelevare i soldi ed è stata denunciata per simulazione di reato, procurato allarme e appropriazione in debita. Matrimonio, farsa, sì ma senza truffa. È stato assolto un imprenditore accusato da una ballerina di averla sposata ma solo per finta. Un matrimonio finto, finto il sindaco, finti i testimoni, finte le firme sul registro del comune. Tutto finto a parte abiti, anelli e invitati. Un teatrino organizzato per compiacere la famiglia della sposa, una ballerina cazzaca di 34 anni, e convincerla che la vita in Italia stava andando bene come dimostrava l'Unione seguita via Skype. Per la finta cerimonia però lo sposo, un imprenditore di 56 anni, è finito davanti al giudice del Tribunale di Prato che ieri lo ha assolto, stabilendo che la sposa non era stata truffata e che era d'accordo e dunque consapevole della messa in scena. L'uomo era accusato di truffa, sostituzione di persona, usurpazione di funzioni pubbliche. Proprio la ballerina lo aveva denunciato un anno dopo la cerimonia celebrata il 7 ottobre 2011, quando aveva scoperto, così disse ai carabinieri, di essere ancora nubile e che quello che credeva suo marito era in realtà sposato con un'altra donna dalla quale si era solo separato civilmente. Una storia che è finita davanti al giudice. La difesa ha però dimostrato che la donna, pochi giorni prima della denuncia, si era dichiarata nubile, compilando un documento per la richiesta del permesso di soggiorno e che sapeva perfettamente che non si stava sposando davvero con l'imprenditore, mentre la sua famiglia dal Kazakistan assisteva al matrimonio, compiacendosi per la buona sistemazione della donna con un ricco italiano. Potrebbe essere uno spurghista furbetto l'autore dello sversamento di liquami nella Bardena a Galciana, dove è successo ieri mattina ad accorgersi del danno ambientale. Sono stati i residenti di Via Sulla Vella e di Via Alfani, allarmati dal cattivo odore proveniente dal vicino Fosso. Immediata la chiamata ai carabinieri della forestale, che sono subito arrivati per verificare la situazione. Secondo quanto ricostruito, qualcuno ha tentato di scaricare i liquami direttamente in fogna, cosa proibita, ignorando il fatto che proprio in quella zona è stato creato un sistema che divide gli scarichi delle abitazioni dalle acque piovane. I primi vengono trattati e poi mandati in fognatura pubblica, le altre finiscono direttamente nella Bardena. Lo spurghista furbo e ovviamente all'oscuro di tutto ha utilizzato proprio il tombino delle acque piovane per effettuare lo scarico. Aveva impiantato una fiorente attività a dispaccio a Tobbiana, nella zona tra Via Traversa Pistoiese e Via Vulcano, e nelle immediate vicinanze del circolo. Attività che non è però passata inosservata alla polizia, che nella serata di giovedì ha bloccato il pusher, un pratese di 22 anni con precedenti. Il giovane è stato trovato in possesso di 4 dosi di cocaina per un peso complessivo di poco superiore a 2 grammi. Interrogato ha ammesso di lavorare per un marocchino di 35 anni, già arrestato in passato. Gli agenti durante il loro lavoro avevano effettivamente notato il nord africano a girarsi in zona, ma l'uomo era sempre riuscito ad allontanarsi prima dell'intervento. Il pusher, al pari del marocchino, è stato denunciato per detenzione di stupefacenti ai fini dispaccio. Lo hanno fermato nel cuore della notte gli agenti di una volante mentre viaggiava ubriaco e indeclassata a bordo di una auto di grossa cilindrata, ma la patente non gliel'hanno potuta ritirare per il semplice motivo che non l'aveva mai conseguita. È successo intorno alle 3.30 della scorsa notte, protagonista un cinese di 57 anni, risultato irregolare in Italia. Il controllo con l'etilometro ha confermato lo stato di ebrezza con un tasso alcolemico due volte superiore al massimo consentito. A quel punto, non potendo ritirare la patente che il cinese non ha mai avuto, i poliziotti hanno sottoposto a fermo amministrativo la macchina, intestata però a un connazionale, hanno denunciato l'uomo per guida in stato di ebrezza elevando una serie di sanzioni amministrative. Villa Fiorelli, dalle feste agli aperitivi alla Casa della Scienza, ecco il progetto di riqualificazione preparato dal Comune. Eleonora Barbieri. La Giunta Biffoni ha approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica per la ristrutturazione di Villa Fiorelli con l'obiettivo di trasformarla in un grande parco delle scienze. L'idea è di dare una nuova sede all'attiguo Centro di Scienze Naturali che farà da porta d'accesso al parco ampliato di 10 ettari rispetto all'attuale. Attualmente la Fondazione Parsec, dove è confluito il CSN insieme alla Fondazione Prato Ricerche, ha sede in un immobile in via Galcianese il cui affitto scade nel 2020. C'è necessità quindi di trovare una nuova casa valorizzando un immobile di proprietà che si affaccia proprio sul parco di Galceti. Abbiamo bisogno di fare urgentemente dei lavori, è un bene del Comune fortemente degradato, secondo me, che ha bisogno, ci piove dal tetto, ha bisogno veramente di interventi per non perderlo. Noi il nostro obiettivo era valorizzare il nostro patrimonio, il patrimonio del Comune, stiamo pagando degli affitti. Gli spazi interni saranno riorganizzati in modo da ricavare biglietteria, uffici, caffetteria, aule e laboratori didattici. Stoppa ai rumorosi aperitivi e alla discoteca che fino a pochi anni fa hanno caratterizzato questa struttura e che purtroppo hanno contribuito ad aggravarne la faticenza. Il costo è di 630 mila euro, altrettanti sono quelli necessari per il secondo step, attualmente solo teorico, che prevede l'ampliamento della villa per ospitare anche il Museo di Scienze Planetarie, altra colonna della Fondazione Parsec. Solo così il progetto di un parco scientifico didattico potrebbe dirsi realizzato. Un unico polo di didattica dove soprattutto le scuole potranno passare una giornata intera a dedicarsi alle scienze. E poi la nostra idea è anche di renderlo aperto ai cittadini. L'idea è quella del giardino all'italiano esterno che sia di libero accesso a tutti, quindi il biglietto si pagherà solo per l'ingresso al museo e al parco, ma non a quel giardino che invece dovrebbe essere un luogo per chi ama parlare di natura e parlare di scienza. Questa è nella nostra idea. Scenario alquanto preoccupante, un attentato con armi chimiche in Piazza San Francesco, ma si trattava solo di una simulazione che ha permesso però di testare e di mettere a punto tutte le procedure di intervento. La simulazione di soccorso per un attentato con armi chimiche si è svolta stamani. Il test rientra nell'ambito del ventesimo convegno nazionale del personale medico e sanitario del corpo militare della Croce Rossa italiana è in corso al teatro Metastasio fino a domani. Varie le sezioni del programma dei lavori dedicate alle celebrazioni della Grande Guerra, alle problematiche chirurgiche e mediche nei contesti di crisi, a quelle medico-legali e all'International Disaster Law. Quarta edizione di Prato Love Sport, la guida semestrale alle attività sportive. Ve ne parla Alessandra Grati. Quarta edizione della guida alle attività sportive Prato Love Sport. 5.000 copie disponibili oltre alla versione online che sarà aggiornata costantemente. È l'edizione del periodo autunnale-invernale di Prato Love Sport. È un ripilogo molto utile per la città e i cittadini di quello che accadrà da qui alla fine dell'anno. E tutte le volte credo sia importante rendersi conto del lavoro che viene svolto dalle società sportive e la serie di eventi che ci sono, che riguardano tutti gli sport e che testimoniano il grande lavoro che le realtà associative sportive fanno nel nostro territorio. Si spazia dal tennis, alla box, alle corse, alla sport kids marathon, a tutto quello che concerne gli sport praticati nei mesi invernali. Ovviamente dal nostro punto di vista un grande appuntamento è l'Urban Run che quest'anno si terrà il 7 di ottobre organizzato dal CGFS che porterà, speriamo come sempre, migliaia di persone in piazza per far conoscere le nostre bellezze artiste coniugate all'attività fisica. Primo appuntamento per il fine settimana del 5 ottobre con la gara podistica a Miglio Pratese ma spazio anche al ciclismo, al podismo, al ballo e al nuoto in apnea. Era il nostro ultimo servizio, grazie a tutti per averci seguito, arrivederci.